BCC di Marina di Ginosa dal 1966 custodi dei valori del territorio viene a trovarci nella sede più vicina a te BCC di Marina di Ginosa, la banca che ti ascolta Unire il vintage al vintage è questa la filosofia che informa le creazioni di Gianmarco Costella giovane designer marinese che si sta facendo conoscere nel panorama italiano della moda per il provocatorio carattere delle sue giacche Il Ginza anni 80 e 90 incontra le tele tessute negli anni del dopoguerra spesso raffiguranti immagini religiose a cui l'artista marinese preclude la vista a simboleggiare una critica alla società italiana e mondiale Sono stato influenzato da quelle che erano le serie Netflix tipo ad esempio Stranger Things tutte le serie che coinvolgevano e che facevano esplodere gli anni 90, 80, 90 e mi è piaciuta a tal punto questa cosa che ho detto provo a vedere di creare qualcosa di nuovo Il lavoro nella moda si affianca ad una passione di lunga data dell'artista che è la tecnologia La cosa che lega molto l'informatica alla moda è quella della comunicazione digitale tramite i social, tramite le pagine web, tramite i video è tutto basato sulla comunicazione Ed è grazie ai social networks che le creazioni di Gianmarco sono approdate in video musicali di artisti come Salmo e sono state acquistate dai registi di video musicali del calibro di Giulio Rosati Questa giacca ha invece vinto il premio Build Your Future al concorso di moda IFT Awards 2021 I giudici sono stati affascinati da questi capi hanno visto una rivoluzione in quello che facevo ed è stata una grande vittoria anche perché ho lottato per farmi notare per essere me stesso insomma ovvero nei miei capi metto le mie immagini metto ciò che sono io Ed è quindi una personalità eccentrica e diriverente che emerge da queste creazioni un po' ma non troppo come l'amato super cattivo dei fumatti statunitensi Joker Marta Campa per Nettuno TV